Si chiude con la decisione del giudice per le indagini preliminari di sospendere per un anno dall'attività della professione medica e anche tutte quelle inerenti il primario del reparto di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragone di Salerno, Enrico Coscioni, nell'inchiesta per la morte di Umberto Maddolo, un 62enne di Monte Corvino Rovella, morto dopo un intervento al cuore, la sostituzione di una valvola aortica. Nel corpo dell'uomo fu ritrovata una garza di 8 centimetri che avrebbe causato la morte del paziente. Il reperto fu sequestrato dai NAS subito dopo gli accertamenti scaturiti dalla denuncia dei familiari. L'inchiesta a cura dei NAS si avvalsa anche della testimonianza del personale infermeristico dei Ruggi ed in particolare di uno degli operatori presenti in sala operatoria che avrebbe confermato che durante la tradizionale conta mancava la garza ma che il primario Coscioni fosse andato avanti comunque a ricucire la ferita. A Coscioni, nell'inchiesta che vede al lavoro la procura di Salerno guidata da Giuseppe Borrelli, è contestato anche di non aver attuato nessun accertamento utile a rinvenire la garza perduta e la scorretta gestione anche delle consegne ai colleghi della riaminazione ai quali il paziente è arrivato subito dopo il peggioramento legato all'intervento. Per lo stesso motivo, avendo fatto parte della stessa equip medica, il giudice per le indagini preliminari ha sospeso dall'attività anche i medici Gerardo Del Greco e Piero Toigo e per sei mesi Francesco Pirozzi e Agnello Puca. Ma non solo, secondo le indagini, in una prima fase dell'intervento, nonostante il riscontro di un'estesa calcificazione alla orta, Coscioni e l'equip completarono l'intervento, ignorando e sottovalutando i rischi connessi alla necessità di manipolare un cuore provato da un infarto recente gravato da una significativa disfunzione.